Un'altra volta. Come Nito non c'è proprio male. 5 a 1. Sì, è stato tutta colpa di quel gol a freddo. Punto, a freddo perché noi eravamo freddi. Questi erano caldi a ingazzetico. Giustamente si sono sfogheti. Especialmente il bomber continuava a segnare. Ciccio, tutti hanno segnato. E pazienza. Comunque prometto ai miei tifosi un gambionetto tranquillo. Ho, 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 ho.